Saranno gli spettacoli, le specialità culinarie tipiche fanese e l'allegria di un appuntamento legato alla tradizione, a dare il via domani alle due giornate dedicate alla festa dei quattro cantoni. Dopo l'angolo di Corso Matteotti e della zona Pincio, rispettivamente dedicate al cantone della Bracceria e del Fritto, questa sera scopriremo gli altri punti della manifestazione che si svolgerà anche venerdì 7 agosto. Il terzo cantone è quello della tagliatella in via Cavour, organizzato dall'Osteria La Peppa. L'Osteria La Peppa a Borgo Cavour avremo una proposta non gastronomica come sempre legata molto al territorio e alla tradizione, quindi dalle tagliatelle, gnocchi, cresteate, tutte quante le paste fatte a mano che produciamo noi, logicamente condite con il ragù, i fagioli, poi praticamente avremo anche la trippa, le cresce sfogliate con salsiccia, erbe, prosciutto e quant'altro. Logicamente, oltre all'intrattenimento per i più grandi, quindi gruppi musicali, ci sarà anche l'intrattenimento per i più piccoli, quindi con la straordinaria partecipazione di Masce e Orso e oltre al mangiare si potranno bere anche la nostra birra e il nostro vino che abbiamo presentato pochissimi giorni fa. Al Bu Burger è affidato invece il cantone della cresce e della grigliata in piazza Marcolini. Partiamo dalla grigliata, tagliatelle ragù, piadina, comunque tutto menù a base di carne. Ad animare la serata ci sarà l'animazione di tire molle per i più piccoli, poi per i più grandi invece avremo l'Amicio's Band nella prima serata e nella seconda invece avremo DJ, balli di gruppo, zumba, per finire con uno spettacolo di progetto danza. In via di Amicis sarà gestito dal CAI con il cantone della rustita dei marinai fanesi. Siamo marinai da generazioni, abbiamo sempre proposto nelle manifestazioni e anche nel mio ristorante comunque si è piatti tipici marinari e il piatto diciamo più importante è la rustita che è pesce arrosto cotto nei foconi. E per quanto riguarda la musica invece? La musica abbiamo la prima serata Luca Vagnini con i suoi ragazzi e la seconda serata abbiamo la Bugaron Band. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio al Turismo al numero 0721 88 73 14 oppure lo IAT Fano allo 0721 80 35 34.